Ugo, morizio poli.it, eccoci qua con un'ennesima truffa, la catena di Sant'Antonio, chiamatela come volete, Schema Ponzi, ennesima nel mondo delle criptovalute, in provincia di Treviso, a Silea, in Italia, quindi oltre 6.000 risparmiatori coinvolti, non rivedranno più i loro soldi. I signori promettevano una truffa da 300 milioni di euro, sono stati arrestati a Dubai, poi vi riporto qui l'articolo, promettevano il 10% di rendimento mensile, come si può pensare di avere un 10% mensile, interesse composto, questi calcolini, queste cose simpatiche. A tutti i consulati finanziari viene chiesto l'iscrizione qui, sarà là, per ogni investimento ti chiedono tutto. Qui invece, greed is good, l'avidità è importante, quindi in provincia di Sissi, quasi tutti Friulani e Veneti sono stati truffati, quindi vi riporto l'articolo, quindi conoscere per decidere, attenzione alle truffe.